Il turismo è il settore che va per la maggiore, anche quello più rappresentato su internet, quindi appunto sul web. Però diciamo, le transazioni online per gli acquisti sono molto indirizzate purtroppo alle agenzie legate ai siti stranieri. Sì, sì, non solo alle agenzie, ma in genere poco agli operatori italiani. Ma questa è una cosa che noi abbiamo verificato ormai da parecchio tempo. C'è una specie di separazione fra gli utenti che sono sempre molti, molto raffinati, molto sofisticati, che se ne voglia dire. E invece l'altra parte, tutta la parte dell'offerta che sembra non riuscire a capire bene come funziona questo mondo. E quindi o non fanno le cose che dovrebbero o riproducono schemi molto vecchi, sperando che questi possano funzionare in un mondo che è completamente diverso e così via. Il risultato è che, per esempio, dal punto di vista economico, anche se gli italiani online spendono molto di più di quello che sembri, però spendono dove trovano da soddisfare i loro bisogni e quindi fuori da qua. Come si può rispondere? Noi ci diamo da fare cercando di spiegare loro quali sono le opportunità, eccetera, eccetera. Dopodiché bisognerebbe che tutti quanti si facessero un po' un esame di coscienza e capissero un po' meglio come funziona questo mondo. In realtà lo capiscono, il problema è che ci sono molte resistenze e molte, non saprei neanche come definirle, antipatie o cose del genere verso strumenti di questo tipo. Forse lì si sottovaluta, finora lì si è sottovalutati secondo me.